Anche la sede del Consiglio regionale del Piemonte ha ospitato due appuntamenti del Festival dell'Educazione, organizzato dal Comune di Torino con il Ministero dell'Istruzione. Il primo incontro sul tema Fare scuola nelle periferie urbane e multiculturali ha promosso un confronto tra dirigenti scolastici di istituti che si trovano nelle periferie di diverse città italiane. Palazzo Lascaris ha inoltre ospitato un seminario dal titolo Il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni e Service Learning, apprendimento per competenze e azione solidale, a cura della città di Torino.